Musica Lunedì 24 giugno si rinnova l'appuntamento con il Quibo Tg Sport, il Quibo Tg Sport, di cui Bologna.tv. Partiamo subito da una notizia molto importante perché Jessica Rossi ha vinto la medaglia d'oro nel tiro al volo ai giochi di Mediterraneo di Mersin, la campionessa olimpica nonché porta bandiera azzurra, infatti nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, e ha battuto in finale la spagnola Fatima Galvez con il punteggio di 13-12. Il terzo posto è andato all'atleta sanmarinese Alessandra Perilli. Cambiamo argomento, parliamo adesso di calcio perché abbiamo due notizie riguardanti il Bologna Calcio. La prima è che il club Felsinio stia continuando a parlare, a trattare con la Roma per il riscatto del numero uno Gianluca Cursi, nonostante i numerosi infortuni che ha avuto in questa stagione. Però il club Gianluca Rosso ha fatto sapere che non farà né favori né sconti sulla cifra trattata all'inizio. Altre notizie invece che riguarda Alessandro Capello è perché prosegue a fare i spenti la trattativa che dovrebbe dividere la comproprietà di Capello con l'Inter per una cifra di 2,5 milioni di euro. Ieri il Bologna ha provato a chiedere come contropartita tecnica il numero uno dell'Under 21, Bardi, però ha ricevuto una risposta, un secco no, da parte del club milanese che vorrebbe portare il portiere in ritiro con sé. Con questa ultima notizia si chiude di ziro di anno del Quimbo TG Sport. Io vi rimando un appuntamento a stasera per stare aggiornati con le notizie sullo sport locale. Grazie per l'ascolto e a presto. Grazie per l'ascolto e a presto.